Ciao bambini, ciao ragazzi, un saluto da me, Andrea Cartotto. Ho pensato di farvi compagnia leggendo insieme una storia, anzi una filastrocca, la filastrocca del cyberbullo pentito, che io ho pensato e scritto su un argomento che mi è molto caro come esperto e come insegnante, il tema dell'educazione digitale, prima ancora del cyberbullismo. Ecco, proprio l'educazione digitale risulta in questi giorni fondamentale per utilizzare al meglio gli strumenti che stanno permettendo praticamente per la gran parte di voi di fare scuola e di essere a scuola anche se siete lontani dai banchi. E allora, prima di procedere alla lettura, vorrei salutare intanto tutti gli studenti e i docenti dei plessi scolastici e degli istituti della Liguria, regione che mi è molto cara perché qui sono nato, cresciuto e vivo, però faccio varcare idealmente i confini della Liguria al mio saluto che porto a tutti gli istituti d'Italia ed anche nelle vostre case. Ed un saluto ancora più particolare a due città che hanno vissuto per prime dei momenti di difficoltà e che sono Codogno e Boeuganeo. E con l'occasione saluto l'amico dirigente scolastico e tutto il personale docente, i ragazzi e le famiglie dell'istituto comprensivo Lozzo a Testino di Boe, che per primo, seguito assolutamente poi da tantissimi istituti, ha voluto rispondere a una grave difficoltà con il bello del digitale. Attenti, il digitale mediato sempre da noi. Il digitale da solo, così come internet, è uno strumento e non può essere né buono né cattivo, ma è neutrale. È il nostro utilizzo a connotarlo in positivo o in negativo. Ed allora leggiamo ora la filastrocca e vi racconto come da un episodio anche negativo può nascere il bello, anche con un piccolo pentimento. Scatta, riprendi, dice il bulletto. Chiede ad un altro, hai il cavalletto? Davanti a loro, vittima ignara, il compagno più fragile che si ripara. Le mani sul viso, per non esser ripreso, ancora una volta schernito ed offeso. Per cosa poi? Per un motivo da nulla. Deriso dicendogli, ma sei una fanciulla. Solo perché, per un lavaggio avventato, i suoi pantaloni hanno un colore sbagliato. D'un tratto però, trovando il coraggio, in un giorno qualunque del mese di maggio, la vittima salza e si mette a fissare chi, senza vergogna, continua a sparlare. Gli occhi arrossati recanti fierezza. Il cuore gonfio, sì, di amarezza. Punta tra i bulli, chi parla guida, lo osserva e non insegno di sfida. Prova pena per la sua sorte, chi sol con il debole si fa forte. Spegni il telefono ed accendi il cuore. Gli urla distinto senza livore. Il gruppo all'ortace sbiancati in volto. Quelle poche parole han detto molto. Tra tutti avanza chi pareva più fiero. Quasi alla vittima non sembra vero. Solo ora ho capito quanto possa far male ciò che a molti di noi pareva banale. Il mio pentimento ti giunga sincero. Mai più cyberbullo, mai più bullo vero. Colpevoli e vittima non sono più lontani. Ora sì sono esseri umani. E con questo pensiero e questa riflessione vi saluto ricordandovi, ricordandomi e ricordando a tutti noi che è il rimanere umani, il punto di forza che ci accompagna e vi deve accompagnare nella vita. Nessuna tecnologia, nessuna macchina potrà infatti fare questo. A presto. Ancora un saluto da Andrea Cartotto. Ah, PS. Tutti voi potete scaricare, semplicemente andando sull'indirizzo web in fondo, questa filastrocca per rileggerla con i vostri familiari o con i vostri insegnanti. Ciao!